ciao frivolette ciao frivoletti ben ritrovati sul mio canale finalmente il video giveaway che stavamo aspettando e mi mostro velocemente quali sono i premi che sono in palio in questo giveaway e poi tutte le indicazioni qual è il regolamento per partecipare primo prodotto la palette magnetica di puro bio che voi potrete riempire con le cialde magnetiche che voi meglio credete poi abbiamo il saponino di endonella profumazione lavanda è una saponetta per mani e viso che potete utilizzare come meglio credete comunque è completamente naturale la maschera my beauty diary all'aloe di questa io ne ho utilizzata un'altra e vi lascio giù nell'info box il video dove potrete vedere come utilizzare questa maschera poi c'è la matita di puro bio nella colorazione turchese poi un pigmento polvere di stelle di luna cosmetici nella colorazione 18 è il lo sbiancante carbon coco che vi ho già promesso ancora non mi è arrivato ma ho già il tracking quindi finché termine il giveaway sarà arrivato anche il vostro carbon coco qual è il regolamento per partecipare a questo giveaway 1 lasciare un like alla mia pagina facebook frivoliamoci 2 essere iscritti al canale azionando la campanellina 3 condividere su facebook in modalità pubblica questo video utilizzando l'hashtag frivoliamoci ga 4 lasciare un commento potete scrivermi quello che preferite sempre giù sotto questo video l'importante che voi mi comunichiate come vi posso trovare su facebook affinché io possa verificare che voi abbiate rispettato tutte le regole così io vi assegnerò un numero che vi servirà all'estrazione per l'estrazione che io farò sul sito random.org il giveaway termina il giorno 4 di giugno di mezzanotte ovviamente e l'estrazione verrà fatta il giorno dopo che lunedì 5 giugno l'importante è essere residenti in italia e aver raggiunto la maggiore età se non avete raggiunto la maggiore età potete far partecipare uno dei vostri genitori ovviamente giù nell'infobox trovate l'elenco di tutte quelle che sono sia quelli che sono i prodotti ma anche le istruzioni così ce l'avete sotto gli occhi e potete rispettarle tutte correttamente spero che questo giveaway vi piaccia e che partecipiate in tante vi mando un grande bacio ciao alla prossima